Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per materiali dispersi rallentamenti in direzione Bologna tra Arezzo e Valdarno per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 429 di Valdelsa per lavori ed un viadotto di vieto di transito in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 12 al chilometro 17. La viabilità cittadina a Firenze in via Lefanti per lavori di vieti di transito sul controviale tra via Mameli e via Dupree. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!